Solo l'aritmetica non ha ancora sancito la permanenza del bitonto nel girone HD serie D, mancando all'impresa un paio di punti non di più, ma tutto il resto non è velato da un'ombra di dubbio. Per personalità, tempra, compattezza e spirito, il gruppo Nero Verde ha meritato la salvezza a suon di sventure superate, rinascite impavide e prestazioni superlative. E così pure la sfida al lavelo di Zeman Junior è apparsa la sintesi impeccabile dell'intera stagione. Mister Valeriano Loseto, piazza fra i pali Petrarca, cintura difensiva con Gianfreda, Silletti e Rapio, Cardore e regista Lungimirante, Mariani e Clemente, interni e sostegno, pungenti cursori Cassano e Carullo, il genio ispirato di Maffei, accanto allo straripante figliolia. Il figlio d'arte del celebre boemo, sistema in porta a Trapani, protetto da Golia, Scalonna, Campora e Grande, in Mediana, Pipolo, Francia e Damiani, Maione, Liccardi e Giovanni Romano formano il tridente. Si parte e sono subito fuochi d'artificio. Primo giro di lancette, destro di Maione, fuori di poco. Minuto 3, cross di Cassano, inzuccata di Maffei, respinta da Trapani, poi il 10 ribadisce sempre di testa e in sacca, 1-0. Tre minuti ed è pareggio immediato, Romano entra in area, si destreggia abilmente e calcia a giro nell'angolino. Clemente scodella da sinistra e figliolia spizza sul fondo. Maione si divincola da silletti in corna, Petrarca mira il cuoio sfilare fuori. Maffei al ventesimo, slalomeggia, frema Stinducani e stocca dal limite, blocca Trapani. Ancora il fantasista indemoniato dal corner, il portiere ospite si narca e smanaccia. Poco prima della mezza è il raddoppio dei padroni di casa. Carullo sgomma sulla sinistra e viene trebbiato da Francia in area. Figliolia batte dal dischetto e segna, piegando pure il guantone di Trapani. Al trentaduesimo, tacco illuminante di Carullo per Maffei, parabola arcuata, alta. Lavoro sublime del 10 al trentaseiesimo per Mariani, che arpione in scivolata, Trapani doma il pallone. 120 secondi e incantesimo di Maffei per Figliolia, che colpisce di testa fuori. Poco prima della pausa, azione d'antologia dei Leoncelli, ricamo Mariani, Maffei e Figliolia, robusto bolide dai 25 metri del puntero, deviato in corner. Solo l'intervallo cheta gli animi pugnaci, che a rientro appariranno meno feroci. Ci vorranno venti minuti prima che sia vergato il tacquino. Romano, crossa radente da destra, palo e sfera fra le braccia di Petrarca. Cinque primi, saetta di Liccardi e portentoso guizzo di Petrarca. Minuto trentasei, traversone perfido di Grande che attraversa l'area piccola, brividi e nient'altro. Primo minuto di recupero, Iliets controlla, si gira e folgora col sinistro, ancora in legno salva i bitontini. Ultimo respiro, Distasio stacca imperioso, ma il goalkeeper ex lecce, blocca in tuffo.